Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio XE sulle intenzioni di voto politiche nazionali di oggi, mercoledì 8 febbraio 2023. Fratelli d'Italia al primo posto con il 30,1% scende dello 0,2%. Il Movimento 5 Stelle al secondo posto con il 17,9% dei voti. Anche per Giuseppe Conte si tratta di un risultato in leggero calo, meno 0,2%. Poi abbiamo il Partito Democratico che guadagna l'1,2% e arriva al 16,7%. Al quarto posto la Lega con il 7,8%, molto al di sotto delle elezioni politiche del 25 settembre. Berlusconi al 7,5% cresce dello 0,6%, passa dall'1% allo 0,5%, noi moderati. Complessivamente il centro-destra al 45,9%, in aumento di quasi due punti rispetto al 44% delle elezioni. Calenda e Renzi sono al 7%, in calo dello 0,7%. Alleanza Verdi-Sinistra perde mezzo punto ed è al 3,8%. Più Europa resta stabile al 2,8%. Grazie a tutti e arrivederci. A presto.